Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Eccoci qua con questa nuova serie che durerà per tutto quanto il campionato della serie A Ovviamente ragazzi, adesso ci penso un attimino e se vediamo un attimino come vanno le cose Magari vado a fare anche quello della Premier, però magari in compagnia di qualcun altro Detto questo ragazzi, questa nuova serie si chiamerà Il Pagellissimo Perché Il Pagellissimo non lo so, mi serviva un nome, anzi se avete dei nomi da suggerire a questa serie Sono ben accetti perché così la posso anche cambiare e mettere un nome un pochino più decente Perché sono un conscio che fa veramente cacare Detto questo ragazzi, sto registrando praticamente il video subito dopo quello con Ettore Ragazzi andatelo subito a vedere Dove appunto lo insulto perché ho perso la giornata al fantacalcio E ricordo anche che usciranno poi dalla prossima giornata tutte le reaction, tutte quante Non sono riuscito a farlo ora per un semplice motivo Ero in campeggio, ero in montagna a una quota di 2002 Non praticamente non mi prendeva internet Sono riuscito soltanto a vedermi in Minan Non so per quale motivo mi è andata la rete soltanto in quel momento lì Poi non mi è più andata, di fatti ho fatto una fatica boia E caricare il video che non praticamente non prendeva non aveva senso Il pagilissimo, che cos'è? È una mia classifica con un voto a fianco personale Su come si sono comportate le squadre nella determinata giornata Dopo vedrete anche benissimo sotto Tra poco che mi sposto e vi faccio vedere Faccio un esempio, la Juventus ha vinto 3-0 praticamente senza fatica Primo posto, ok? Il Lecce ha perso però comunque ci ha provato come la Cremonese Magari le metto, che ne so, decimo, undicesimo Non è la classifica della Serie A, ok? Tramite i punti È la classifica dove io valuto come ha giocato la partita Lo ammetto, non interamente l'ho vista, ok? Mi sono visto i spezzoni, mi sono visto quelli, gli highlights di 10 minuti Quindi può dire tutto, può dire nulla Ci tengo a farla, quindi la faccio lo stesso Non me ne frega niente, ok? E do un mio parere perché magari quella squadra doveva vincere Quella squadra ha perso e non doveva perdere Quella squadra ci ha provato e quindi si merita magari 6 Perché, vabbè, faccio che farvela vedere Questa è la classifica Ho messo Juventus con un voto di 8 contro il Sassuolo Perché? E ho iniziato di viola perché? Perché tra tutte le bighe è quella che si è comportata meglio, ok? Lecce, Verona, Cremonese nella classifica reale non sono lì E però hanno un voto maggiore di Roma, Inter, Fiorentina Perché? Perché comunque nonostante la partita Inter-Napoli Quindi Lecce-Inter si è comportata bene, ok? A parere mio quindi si mette anche un bel 6,5 Però sta nella classifica mia personale undicesima Adesso vi vado a dire tutto quanto dal primo al ventesimo Juventus chiara contro Sassuolo Come ho già detto prima È andato tutto liscio come l'olio 3-0, 3 pappine, tutti a casa La più forte in questo momento tra le big Subito dopo metto il Milan, ok? Con un voto minore del Napoli Perché? Perché ha dato la sensazione Questa è un po' più... perché l'ho vista come partita Ha dato la sensazione che... più che altro non è che ha dato la sensazione Dà sempre la sensazione, anche quando è sotto Di poterla recuperare in modo molto molto tranquillo Senza nervosismo, senza niente Quindi gli ho dato 6,5 perché hai preso due gol da pollo Però contro Udinese Però ti meriti la seconda posizione Proprio perché hai dimostrato tranquillità Subito dopo c'è il Napoli con un voto di 7,5 ragazzi Perché sembrava proprio una voglia, una cattiveria in questo Napoli Di recuperare la partita, tutte le volte è andato sotto Mi sembra che fosse andato 1-0 Poi 1-1, poi 2-1, poi 2-2, poi 3-4-5 Quindi ha fatto una valanga di gore Ha dimostrato che nonostante le partenze Può fare malissimo È vero che il Verona si è un pochino spento dopo Però ha dimostrato che nonostante le partenze di vari giocatori Il Napoli c'è ed è pronto a lottarsi il quarto posto Comunque le prime quattro posizioni Per questo merita terza posizione E un bel 7,5 in pagella come nella prima giornata Atalanta 7 Vittoria in scioltezza Dove ha dimostrato anche belle azioni offensive Zappata un pochino dimenticato da tutti Ha mandato in varie occasioni 2-3 giocatori al bar Ok? È vero che era la Samp Però comunque ha vinto, ha fatto il suo Torino 6,5 contro il Monza Monza che non era proprio da sottovalutare Anche se ci si aspettava un po' di più Torino 6,5 perché? Perché nonostante i problemi interni Prima Juric, adesso Lukic Vari problemi interni Risulta in campo però Una squadra solida Soprattutto sapendo Juric Solida nel punto di vista difensivo Lazio 6 ragazzi Qua Lazio, Spezia, Inter, Fiorentina Anzi Inter, Fiorentina è un discorso diverso Però la Lazio ha fatto il compitino 2-1, ciao Quindi un bel 6, Spezia, stessa cosa Anche se l'ho messa prima di Roma-Inter, Fiorentina Proprio perché è stata abbastanza tranquilla come partita Perché ho dato 6-0 alla Roma contro la Salernitana? Perché mi aspettavo più gol Tutto qui, mi aspettavo più gol L'hai vinta, sì, ovvio Non posso dar 5 Perché l'hai vinta Però ti devo dire Hai fatto comunque il tuo Ok? L'hai portata a casa Però mi aspettavo più gol contro la Salernitana Zagnolo si è mangiato un sacco di occasioni Inter 6 Non posso dar di meno ragazzi Perché l'hai portata a casa Hai dimostrato di crederci Anche se hai faticato contro Lecce Ti metto in nona posizione in questa giornata Perché hai faticato Tu non dovevi faticare Ok? Tu non dovevi assolutamente faticare Contro la Fiorentina Scusatemi Fiorentina-Cremonese Anche qua 6 Vinta proprio all'ultimo Stavo andando a vedere I risultati 3-2 Vinta 3-2 Dove però io ragazzi Fiorentina-Cremonese Mi aspettavo Una Fiorentina Che vinceva un po' All'Atalanta 2-0 Ok? Tra l'altro ho scritto Samb Droia Ok? Ho pure sbagliato a scrivere Ma lo lascerò così Lecce-Inter Lecce-Verona E Cremonese Faccio un unico discorso 6 e mezzo Lecce-Cremonese Molto più simile Perché hai perso all'ultimo Se non ne ho promossa Hai dimostrato Che potresti essere Una Che Ficca il dito Anche dove non deve Ok? Quindi potrebbero essere Delle avversarie interessanti Ok? Che potrebbero essere Delle papabili Squadre che andranno a fermare Delle big E Verona Un pochino diverso discorso Ma comunque 6 e mezzo Diciamo che tra undicesimi E tredicesima posizione C'è poca differenza Perché questo Perché secondo me Il Verona Nonostante abbia perso di misura Si gioca così Tutte le partite Ragazzi Ma contro Ma contro un Undinese La vince Contro un Bologna La vince Contro la Sampo La vince E quindi Per questo ci hai dato 6 e mezzo Ok? Perché nonostante tutto Nonostante le 5 pappine Hai giocato bene in campo Cioè Purtroppo Cioè Purtroppo Mi spiace Perché dice Cavolo 5 pappine Però è giocato comunque benino Ecco Verona Napoli Juve Sassuolo Le ho viste a tratti Ok? Le ho viste a tratti Perché era Ferragosto Stavo facendo altri Via Udinese Milan Le ho dato 6 all'Udinese Proprio perché Ragazzi Nonostante il Milan Campione d'Italia È riuscito a dargli Due gol Addirittura Essere in vantaggio Ok? Soprattutto Poi Becao Ragazzi Segna sempre Becao Ha rotto il cazzo Da milanista Becao Ha rotto il cazzo Lui e Berardi Hanno rotto Veramente il cazzo Bologna Bologna ragazzi Che non Fa qualcosa Niente di che 5 La stessa cosa per Monza Sampdor E Empoli Ragazzi Contro il Milan Nazio Atalanta Torino E Empoli Spezia Scusatemi Niente di che Ragazzi Lì Se una va prima Una va dopo Le ho messe un po' così A casa Nel senso che Cambia Cambia veramente poco Hanno perso Non voglio dare 4 Perché comunque Qualcosa l'hanno fatto Però Niente di che Do 4 e mezzo Al Sassuolo Perché il Sassuolo Rispetto secondo me Bologna Samp Monza Empoli È più forte E Si è stato Proprio schiacciato Sei stato Proprio schiacciato 4 e mezzo Salernitana 5 e mezzo Ma ultima posizione Perché Non l'ha dimostrato Grazie in campo Però Essendo che la Roma Non riuscì a fare gol È lì che tu devi pizzicare È lì che puoi dare fastidio Purtroppo ragazzi È così Nel senso Non Non ha fatto niente di che Purtroppo E niente Queste sono La mia classifica Della giornata Su come hanno giocato Le squadre E cosa Potevano fare di più Ok È un mio parere Personale Ovviamente Con un voto Personalissimo L'avversario Non è personale Perché è quello che è Vi vado a leggere La prossima giornata Nel frattempo Che Torino Lazio Udine Salernitana Inter Spezia Sassuolo Lecce Empoli Fiorentina Napoli Monza Atalanta Milan Bella partita per il Milan Bologna Verona Roma Cremonese Sampi Uve Torino Lazio Può essere un po' più Ostica Udinese Salernitana Dovrebbe vincere Tranquillamente L'Udinese Inter Spezia Vabbè ragazzi Se l'Inter non vince Sassuolo dovrebbe vincere Sassuolo contro il Lecce Empoli Fiorentina Vi dirò Non è così scontato Che la Fiorentina vinca Napoli Monza Per come ha dimostrato Il Napoli Dovrebbe vincere Atalanta Milan Non saprei cosa dire Perché L'Atalanta In ottima forma L'abbiamo visto Contra Sampdoria Ma ugualmente Anche il Milan Bologna Verona Mi sa di pareggio Sono sincero Roma Cremonese La Roma Dovrebbe vincere Tranquillamente Sampi Juve Juve Dovrebbe schiacciare Tranquillamente La Sampi Questa è la prossima giornata Io vi saluto Spero che il video Vi sia piaciuto Evo porre che non avesse registrato Lasciate anche Un commento Su cosa pensate Di questa serie E un possibile nome Ragazzi Io l'ho chiamata Il Pagellone Però Potrei cambiare anche nome Tranquillamente Quindi fatemi sapere qua sotto Cosa potrei mettere E cosa ne pensate Se avete Idee diverse Pesso fatemi anche voi Una vostra classifica Col voto A fianco Alla partita Il voto Della squadra Quindi tenete in conto Partita Quindi più o meno Come hanno giocato E Un pochino magari Anche cosa vi aspettavate voi Ci mancherebbe E poi come è andata A finire Realmente Vi saluto Noi ci vediamo A un prossimo video Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo